abbiamo appena raggiunto il punto più basso della terra questo quello di me è il mar morto siamo a circa 430 metri sotto il livello del mare è pieno di mosche pizzicano adesso fa un bel bagno e verifichiamo anche questa cosa dell'altitudine severa l'acqua è bellissima l'alta salinità l'ha resa veramente cristallina qui non vivono pesci di nessun tipo soltanto qualche alga e qualche microorganismo quindi è tranquillo bisogna fare attenzione quando si nuota comunque questo qua è l'altimetro sta segnando 4 meno 448 metri e salatissima è così salata che ti lascia un sapore amaro in bocca fortissimo con due galleggi facilissimo